Ciao a tutti, siamo qua con Daniele, un nostro caro paziente che è già diventato amico, che ci vuole raccontare la sua storia del sorriso. Io vengo da Tio, di provincia di Roma, ed è la terza volta che ho vinto. Tra l'altro ho accompagnato anche alcuni miei parenti e devo dire che mi sono trovato molto bene, anche perché la clinica è molto pulita, quindi ci sono dei grossi professionisti che ti capiscono e soprattutto c'è chi ti traduce i tuoi vari problemi e quindi questa è una cosa molto importante. C'è un'ottima organizzazione, addirittura gli appartamenti che danno sono di ottima finitura, puliti e poi ci sono dei buoni professionisti. Io ho fatto dei lavori che in realtà se avessi dovuto farli in Italia, a parte il prezzo, ma sarebbe stata una cosa drammatica per il tempo, in quanto in Italia i tempi sono molto lunghi rispetto rispetto a qua. Qui si viene dalla mattina alla sera e quindi di conseguenza è una cosa positiva. Dolore non ne ho sentito, devo essere sincero, anche se un po' di paura inizialmente c'era, però non ho sentito nessun dolore e le cose sono andate abbastanza bene. Poi per il resto è comodo anche il fatto che con due ore di aereo si arriva la compagnia, le compagnie di bandiera sia alla Witz che alla Moldova non è che costano poi tanto rispetto ai biglietti dei voli internazionali. Un consiglio specifico per altri pazienti, per altri clienti che vogliono venire in Moldova? Intanto la cosa principale è quella subito di contattare la clinica perché loro ti danno tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Spedire un'ortomanoramica, una lastra per vedere un pochettino come sta la bocca, sicuramente voi farete un preventivo di massima per vedere più o meno quello che si va in conto da delle spese, ma rispetto ai prezzi italiani non c'è concorrenza.